Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me Buongiorno al latte e al caffè Buongiorno a chi con c'è E al mio amore buongiorno per dirle che lei Che per prima al mattino vede il gioco a te E' un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te Lunedì 29 luglio 2024 Bentornate alle nostre telespettatrici e ai nostri telespettatori Anche questa mattina siamo puntualissimi Sono le 7.20 La rassegna stampa Buongiorno Rossini Per leggere insieme le principali notizie dei due quotidiani regionali Il Corriere Adriatico e il resto del Carlino Diamo un'occhiata alla webcam che il nostro regista Andrea Marcelli ci propone questa mattina Questa immagine a 360 gradi Ad inquadratura sicuramente molto spettacolare E scomparsa Ahimè e questo è il bello della diretta Comunque abbiamo visto dal skyline della Baia Un mare abbastanza calmo Che lascia spazio Ecco grazie per avercelo riproposto Alcuni bagnanti già presenti a sgambettare lungo l'arenile Come potete notare nonostante l'ora è molto appunto presto Invece di guardare la rassegna stampa di Rossini TV Sono già protagonisti sull'arenile Quindi una bella giornata come anche il meteo ci sta informando Come vedete sempre sole Poco nuvoloso intorno alle 11 e a mezzogiorno Ma direi di parlare soltanto di qualche velatura lungo la nostra costa Siamo con temperature nella media Il piccolo avvertiremo alle 14 con 30.6 Come vedete sia mattino pomeriggio che sera Assenza quasi totale di nubi Almeno nella nostra città Questo è il meteo che ci propone la regia Relativo alla regione e Marche Partiamo Intanto l'invito a tutti gli ascoltatori Che ci stanno seguendo Anche attraverso la pagina Facebook Ad andare a commentare insieme a noi Le notizie che andiamo a leggere Come sempre vi prometto Ma poi mantengo sempre la parola Leggerò i vostri commenti Relativi appunto alle notizie Quindi liberi di esprimere la propria opinione Su quanto andremo a leggere Il Corriere Adriatico apre naturalmente Siamo al post palio dei Braceri L'evento dell'anno L'evento più sentito sicuramente Dalla nostra cittadinanza L'evento che coinvolge migliaia di persone Ogni ultimo weekend di luglio Presso la Rocca Costanza L'evento che quest'anno ha fatto parlare Per altri motivi Che poi andremo a leggere Ma che abbiamo letto già Durante tutta la settimana Che ieri si è concluso con il triplete storico Della contrada di Villa del Quartiere Di Villa Fastigi Un tris di vittorie che corona I successi già ottenuti dai biancorossi Di San Pietro Già nel 2022 e 2023 Malori tra i corridori Ci sono stati anche momenti di tensione È dovuto intervenire il sindaco A stemperare gli animi È anche avvertito che resti una festa Oppure puntini puntini Giungla di scooter sui marciapiedi Ennesima giornata difficile Ma direi weekend difficile Quello che si è svolto da venerdì Fin da venerdì fino a ieri Abbiamo avuto problemi Partendo da Sottomonte Zona sud Arrivando fino al campo di Marte Di Baia Flaminia Veramente parcheggi limitatissimi E quindi giungla di scooter e di biciclette Disseminate ovunque Con proteste naturalmente Sia da parte dei residenti Che si sono trovate istruite Le vie di uscita dalle loro condomini Sia da parte degli esercenti E non parlo degli albergatori Che ogni santa domenica Esprimono la loro litania In un rosario di proteste Contro appunto la sosta selvaggia Il megafono vintage Che allieterà Per così dire Durante questa estate Nei parchi e nei giardini Annunciando la scarsità di acqua Quindi invitando al risparmio idrico Tutta la cittadinanza Un vecchio modo di pubblicizzare Quindi senza social Senza telefonini La protezione civile Adotterà questa metodologia A cui eravamo abituati Noi di vecchie generazioni Per avvertire appunto Sugli sprechi dell'acqua L'elenco dei 133 maturi A cui vanno i complimenti Della nostra redazione Sono stati premiati Tutti presso il Teatro Santi Di Vallefoglia E poi a Fano Ser Filippi Che promette una svolta Nei grandi eventi Per la sua città E vuole un agosto super Chiudiamo con Marotta Bivacchi e vandalismi Vicino allo sgambatoio Protestano sia i residenti Sia i padroni Dei cani E a Marotta Una indecorosa conclusione Della movida Con bottiglie Frammenti di vetro Bivacchi Presso lo sgambatoio Di via della Campanella Questo il Corriere Adriatico Dopo torneremo naturalmente Ad approfondire le notizie Del quotidiano di Ancona Diamo un'occhiata Al Carlino Marche Invece Anche qui Il Palio dei Braceri La fa da padrone Per quanto riguarda Le notizie Tensioni Monito del Sindaco Sia la festa Solo se resta Goliardica E poi Andremo ad approfondire Nuovamente Altre notizie relative A opera maestra E stella polare Tant'è che spuntano Anche pagamenti Da parte di Aspes E poi anche qui L'elenco Dei super maturi Che hanno avuto Cento e lode Leggiamo subito Un commento Che ci arriva Da parte di Ornella Simoncini Molte macchine Parcheggiate Molto male A sottomonte Strisce pedonali Pericolose Per i pedoni E infatti Confermo La nota Di Ornella Poi andremo a leggere L'articolo Del Corriere Adriatico In effetti Le auto parcheggiate Sia l'atomonte Sia l'atomane Stanno creando Ogni fine settimana Dei problemi enormi Alla circolazione Ma anche ai pedoni Grazie Ornella Per il tuo intervento Villa Fastigi Fa il Tris Come dicevamo Per quanto riguarda Il palio Dei Braceri Per la terza volta Consecutiva Quindi In finale Sconfiggono Le contrade Di Pantano Tombaccia E Villa San Martino Tre pali di fila Non li aveva mai vinti nessuno Quindi Un record Che costella E impreziosisce La bacheca Del circolo Arci Di San Pietro E' intervenuto Massimo Aliano Santini Diciamo Colui che Ha ideato Il palio Durante L'epoca Ricci E ha svelato Che opera maestra Non organizzerà Più Il palio Dice E' un passo dovuto Era scaduto Il contratto Triennale Mi riempie D'orgoglio Che siano le contrade D'ora in poi A gestire Il palio Questa L'unica nota Rilasciata Da Santini Per quanto riguarda Gli altri premi Lo ricordiamo Non c'è solo La corsa Delle Dei 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 Braceri Scusate Ma Altri premi Costellano Questa festa Lo stand E' stato Il miglior stand E' stato vinto Da Villa Ceccolini La migliore decorazione Se l'è aggiudicata Villa Fastigi Mentre Al calcio Balilla Ha vinto L'Arzilla Il miglior bracere E' stato vinto Dalla contrada Di Pozzo E chi è la più bella Del reame La più bella del reame E' Alice Afanasi Della contrada Di Soria La vediamo Nella foto Dedico questo premio Alla mia famiglia Grande entusiasmo Tanti applausi Tanti applausi Miss Palio Miss Palio Social E Dalia Caldari Di Montegranaro Tra l'altro La più giovane Pensate Soltanto 16 anni Che sulle pagine Instagram Del Palio Di Welcome Tu Pesre Ha ricevuto 1863 Like Interviene anche Maurizio Bruscolini Che abbiamo Tra l'altro Incontrato Proprio ieri Mattina Per realizzare Uno speciale Sulle BMW Che andrà In onda Fra qualche giorno Proprio Nel Nel nostro Palinsesto E Anticipa Le Notizie Che andremo A decere Adesso Appunto Relative Alle due Associazioni Erano ben Introdotte Dice Maurizio Bruscolini Il totale Fra le due Associazioni Stella Polare E Quell'altra È di Quasi 500 Mila Euro E infatti Soldi facili Altri 29.650 Da Aspes Stella Polare Pagata Per il Natale 2023 L'anomalia Di un affidamento Diretto Da parte Dell'Aspes Per Pesaro Nel Cuore Gli affidamenti Creativi Li definisce così Roberto Damiani Nella sua inchiesta Insieme ad Antonella Marchionni Attraverso una società Partecipata Come Aspes Che ha pagato Per interposto Ente E siamo arrivati A 494.235 Virgola 30 euro Quindi quasi Mezzo Milione Su questo giro Di denaro pubblico Soldi a getto Continuo Dal 20 A oggi A volte addirittura Anticipati Senza gara E sulla base Di determini Dirigenziali Piuttosto Ardite Sta indagando Anche la procura Della Repubblica Che in questi giorni Ha aperto Un fascicolo D'inchiesta Per far luce Sui rapporti Tra le due No Profite E l'amministrazione Comunale Ricordiamo Gli spettacoli Di Pesano Nel Cuore Andati in scena L'8 Il 23 Il 24 Dicembre 2023 E denominati I grandi spettacoli Di Stella Polare Nel 20 Dal 20 Invece Al 22 Per tre anni Di seguito Il Natale Pesarese Era stato affidato Ad opera maestra E a Stella Polare Direttamente Dall'amministrazione Comunale E interviene L'ex consigliere Alessandro Bettini Il quale Esprime In questa nota Affidata Naturalmente Al resto Del Carlino Il suo Stupore La sua meraviglia Leggendo le Continue Notizie Sul fiume De Denaro Che il comune Di Pesaro E i dirigenti Comunali Hanno assegnato Si è pervasi Da un senso Di sconforto E di indignazione Dice Bettini Ci si chiede Come sia possibile Che due associazioni Senza scopo di lucro E senza dipendenti Avessero a disposizione Idraulici Giardinieri Tecnici Pittori I quali dovrebbero Essere stati pagati Con tanto di fattura O di ritenuta D'acconto Realizzando così Attività commerciale I dubbi Sorgono Propotentemente Quando si legge Che l'Associazione Culturale Opera Maestra Ha ottenuto Per comprovata Esperienza La manutenzione Di un impianto Idraulico In un edificio Di proprietà Comunale 27 giorni Dopo la sua Costituzione Per 20.000 euro I 133 super maturi I nomi di tutti gli studenti Che hanno ottenuto Cento e Lode La parte del Leone L'ha avuta il Liceo Mamiani Di Pesaro Insieme al Marconi Tra il Della Rovere Di Urbani Ai Celli Di Cagli Eccellenti Solo due studenti Quindi per tutti I genitori Ma anche i protagonisti Di questa bellissima cavalcata Durante le scuole superiori Ci sono tutti i nomi Che potrete andare a scoprire Appunto acquistando Sia il Carlino Sia il Corriere Adriatico Quindi complimenti A questi super studenti Intanto Ser Filippi Il sindaco di Fano Vola a Vielizca La città gemellata Con Fano In Polonia Una città di origine celtica Ser Filippi è partito Accompagnato dalla vice sindaco Loretta Manocchi E da Raffaella Pecorelli Tesoriera di Amici Senza Frontiere L'associazione di volontariato Fanese Che dal 92 Si adopera Per curare i rapporti Con le città Gemellate Torniamo sul Corriere Adriatico Lo ricordiamo Il lunedì Il resto del Carlino È in edizione Ridotta Per far spazio alle notizie Di tutta la regione E torniamo sul palio Torniamo sul palio Perché il Corriere Adriatico Dà spazio All'intervento del sindaco Allora Non soltanto festa Ma ci sono stati Dei momenti di tensione Ieri Durante La Kermess A Rocca Costanza Momenti di adrenalina Ma oltre ai malori Tra i corridori Che andremo a leggere fra poco È dovuta intervenire Pensate La polizia Lo vedete Ve le faccio vedere Anche la fotografia Qui ci sono Delle poliziotte In azione Per calmare Gli animi Già calorati Sicuramente Dal gran caldo Biancani Non poteva Non intervenire A riguardo E ha lasciato Un monito Alle contrade Rimanga Una festa Bella E solare Uno spirito goliardico Deve pervadere E permanere All'interno Della festa In cui sono coinvolti Migliaia di giovani Della nostra città L'entusiasmo Non manca Bisogna far leva Su questo Però Non voglio più vedere Scene Delle genere Questo Il Biancani Pensiero Mi auguro Che sia stato Soltanto Una fumata Non voglio tensioni Tra un quartiere All'altro Non lo accetterei Attenzione Le tensioni Non fanno bene Ai ragazzi E alla città E oltre alle tensioni Il troppo caldo Con malori A raffica Nel fossato Almeno cinque I giovani Che sono stati Soccorsi Sicuramente Erano tutti I Partecipanti Alla Corsa Thomas Delbianco Racconta Che il fossato Era più simile A un girone Dantesco Ieri Infernale Che ha un circuito Di corsa E i partecipanti Al palio Hanno subito Alcune conseguenze Sono stati cinque I giovani Che hanno dovuto Avere E richiedere L'aiuto Dei sanitari Sempre Per fortuna Presenti Caldo torrito Eccesso Di sforzo Fisico Disidattrazione Durante Le eliminatorie Anche perché Sono cominciate Addirittura Alle 15 Quindi sotto Il sole Rovente E domani In consiglio Comunale Prima grana Per Biancani Vediamo Per quale motivo Allora Alle cinque È convocato Il consiglio Comunale Sul piede di guerra I consiglieri Comunali Del centro-destra Che presenteranno La richiesta Di istituzione Di una commissione Di inchiesta Affirma Fratelli d'Italia Lega Pesaro Svolta E Pesaro Giovani Con carattere Di urgenza L'opposizione Ha già lanciato Appelli Ai consiglieri Di maggioranza Per un voto Favorevole In modo Che si faccia Subito Chiarezza Bipartisan Sugli affidamenti A stella Paolare E opera Maestra Ma la maggioranza Sulla carta Ha i numeri Per respingere La proposta Che tra l'altro Deve essere approvata A maggioranza Assoluta Ricordiamolo E può istituire Sempre Il consiglio Comunale Al proprio interno Commissioni Di indagine Sull'attività Della Amministrazione Lo stesso Ordine del giorno Comunque È denso Di argomenti Domani All'ordine del giorno Non c'è solo La costituzione Della commissione Di inchiesta Anzi Questa È Alla fine Di una serie Di disparate Interrogazioni E interpellanze Abbiamo il contrasto Alla droga La rimozione Dell'amianto A muraglia Il sottopasso Pedonale Di Villa Fastigi La presentazione Delle linee programmatiche Di mandato Del sindaco La variazione Del piano triennale Delle opere pubbliche E poi Le mozioni Come la protezione Dei lavoratori Dallo stress Termico La richiesta Di intitolazione Di un luogo pubblico In omaggio Alla memoria Di Arnaldo Forlani Tutto questo Nell'ordine del giorno Di domani Dovrebbe precedere La richiesta Della commissione Di inchiesta Poi ne riparleremo Appunto Mercoledì Mattina Sosta selvaggia È arrivato un commento Ma prima di leggere Il commento Verifichiamo L'articolo In modo che poi Possiamo Appunto Arrivare Al feedback Del nostro Ascoltatore Arrivarci Non è un miraggio Ma è un incubo Per la sosta Selvaggia L'ultima domenica Di luglio Per i bagnanti È stata Un'impresa Pensate Già da prima mattina Le auto Sottomonte Occupavano Tutta la carreggiata Sia Lato monte Sia Lato mare Dopo aver occupato Già tutti gli stalli Del Santa Marta Stesso problema A Baia Flaminia A Campo di Marte Con Una situazione Surreale È come giocare Alla roulette Dice Letizia Francesconi La situazione È al limite Sottomonte Si parcheggia Da una parte All'altra Della carreggiata Riducendo Ovviamente Poi Lo spazio Per Il traffico E anche Per i pedoni I parcheggi Lato monte Vengono occupati Fin dalle prime ore Del mattino Da bagnanti In arrivo Soprattutto Dall'entroterra Con la conseguenza Che pur Di accaparrarsi Un posto E scendere in spada Ogni weekend Si parcheggia Anche laddove Lato mare Non è Consentito La conseguenza Quali sono Incandescente Il centralino Della polizia Locale A cui si chiedevano Interventi Per la sosta selvaggia E poi Il solito La solita litania Che ho Descritto prima Che è questa Che vi indico Con La penna Il parcheggio Selvaggio Degli scooter Tra piazzale D'annunzio E l'ultimo spazio Lato Fano Parla Andrea Orfanò Dell'hotel Gala Si può immaginare Che far west Abbiamo oggi Ogni pomeriggio Per andare Al mare E leggiamo il commento Della nostra Ascoltatrice Laura Lalli Fontana Per quanto riguarda Gli scooter Al di là di qualche Centauro Che parcheggia Fregandosene Di tutto E di tutto Non ci sono Abbastanza posti Anche a Santa Marta È diminuito Notevolmente Lo spazio Si dovrebbero creare Altri spazi Per parcheggiare Qual è l'alternativa? Non andare Al mare Questo è il feedback Di Lalli Fontana Che ringraziamo Per il suo intervento Cambiamo argomento Dopo il palio E sosta selvaggia C'è stata una bella festa Sabato sera In piazza Non più piazza del popolo Ma dei popoli Questo Il bel commento Rilasciato Dal vescovo Salvucci Al banchetto Che si è tenuto Sabato È intervenuto In questa festa Dell'inclusione Dell'accoglienza Organizzata nel cuore Della città In piazza del popolo Presenti La comunità cattolica Ortodossa Buddista E musulmana Tante le iniziative Testimonianze Incontri Ballo Tradizionale Momento conviviale Per ritrovarsi tutti Nello spirito Della solidarietà Allora Leggiamo Chi ha organizzato Questa bella manifestazione Sono state L'Arcidiocesi La Caritas Di Pesaro Quella diocesana I focolarini Refugees Welcome Italia Pesaro Urbino Il rinnovamento Nello spirito Gli uffici diocesani Dei migranti Ecumenismo Dialogo interreligioso Associazioni Festa dei popoli E altre realtà E interviene anche L'amico Andrea Tartaglia Dal porto Relativamente Alla sosta Selvaggia Ci sarebbero Le navette Ma poche Sono le persone Che la usano Usare I parcheggi Scambiatori Anche se poi ieri Letizia Francesconi Ci segnala Nel suo articolo Non l'ho letto Mi scuso Che le navette Comunque Sono state Quasi sempre Riempite Però Ringraziamo Ovviamente Andrea Per il suo Intervento E veniamo All'acqua Allo spot Vintage Invita al risparmio Nei quartieri Con i medafoni Sprechi Stop Vediamo cosa succede I mezzi della protezione civile Girano per la città Oggi Dalle 18 Alle 20 Saranno tra Il centro E il mare Dal 25 luglio Viene trasmesso Grazie alla protezione civile In tutti i parchi E i giardini Luogo di ritrovo Questo monito Con il megafono Montato Sull'auto Vintage Anche l'auto Come potete vedere Mi sembra Una vecchia Fiat 1 Addirittura Per informare I cittadini Appunto Ed educarli Anche grazie A due bambini Che interpretano I ruoli Di Lucia E Mattia Che vengono Dalla scuola Di teatro Della piccola ribalta E' uno spot Che potete leggere Appunto Qui Nell'articolo Di Maurizio Marinucci Si scambiano Delle opinioni Raccomandano A limitare Il consumo Dell'acqua Parla Ugo Schiaritura Il coordinatore Del gruppo comunale Della protezione civile Di Pesaro Ci fermeremo Nelle piazzette Nei giardini Nei luoghi Di ogni quartiere E aggiungeremo Anche dei giri serali Così da poter lanciare Il messaggio A più persone Possibili E poi L'agenda Che potete Leggere Appunto In questo Articolo Con I vari passaggi Della protezione civile In giro Per i Quartieri E oltre alla macchina Della protezione civile Comincerà anche Un via vai di camion Per l'area Dell'ex Consorzio Si parte Per la realizzazione Delle due Consorzio agrario E ovviamente Si parte Per la realizzazione Delle due torri Fronte porto Nell'area Che una volta Appunto Ospitava il consorzio Agrario E finita la bonifica Sono Hanno ottenuto I costruttori Il via libera Dalla conferenza Dei servizi E quindi Calata 52 Renco E la società Nova Portum Hanno chiesto Una deroga Per il passaggio Dei camion Superiore Ai 32 tonnellate Ne passeranno Fino Al fine settembre Quasi 28 Al giorno Anche Il Corriere Adriatico Da spazio Alla carica Dei 133 studenti 100 E l'ode Mentre da oggi Mercatello E la capitale Del 50 Per 50 Ritmo E la parola D'ordine Per La capitale Al quadrato Pesaro 20 24 Da oggi Fino a domenica 4 Agosto Il programma Di mercatello Ritmo Giovane I giovani Del ritmo Sarà scandito Dalla musica Dei salons Rossini Anticipatori Di un'edizione Unica Del ROF Del festival Musica e musica Creatura di Guerrino Parri Che si protellerà Fino al 19 Agosto Del concorso Dada Della Dante Agostini Drum School E del workshop Incanto Lirico Della residenza Perform Opera In Italia Dagli Stati Uniti E poi tantissime Altre Iniziative Descritte Nel Articolo Sono le 7.45 Andiamo a leggere La cronaca Di Urbino Questa bella iniziativa Questa bella sinergia Nei giorni scorsi Tra Vigili del Fuoco E 118 Come unico team Una serie di esercitazioni Uniche Nella nostra provincia Che ha coinvolto Il personale sanitario Con i pompieri Si tratta di La prima esercitazione Che ha visto un'attività Per creare sempre più squadra Tra il personale sanitario E quello dei Vigili del Fuoco Per ottimizzare Cooperare E muoversi Nella massima sinergia In situazioni Di pericolo E necessità Condoglianze Invece alla polizia È morto L'ispettore Giuseppe Di Bernardino Urbinate 68 anni In servizio A Gela Quindi In una città Sicuramente Non facile In Sicilia Noto Per il suo coraggio E la dedizione Nella lotta Contro la mafia Siciliana Sempre In prima linea Nelle operazioni Contro i clan Mafiosi Lo ricordiamo L'ispettore di Bernardino Rimase gravemente Ferito Trovandosi anche In uno scontro A fuoco I funerali Per chi lo volesse Ricordare Oggi pomeriggio Alle 15.30 Nel santuario Sacro cuore Di Castaccolo Partendo dall'obitorio Dall'ospedale Di Urbino Alle 15.15 Grandi eventi Ma risultati deludenti Questo Il Ser Filippi Pensiero Lo ricordiamo Ser Filippi Da oggi In Polonia A Wielitska Interviene Invece Dopo 50 giorni Da sindaco Ribadendo La road map E Parlando Degli eventi Estivi La giunta Sta lavorando Su tutti i dossier Dice il sindaco Di Fano Sia quelli precedenti Sia quelli A cui ha incaricato I nuovi assessori Abbiamo promesso Di intervenire Sul porto Lo abbiamo fatto Eliminando La carcassa Del Nettuno Partiamo Con la nuova Festa del mare Installando Un palco permanente A Lido Per tutto il mese Di agosto Anche perché E lo afferma Lo Ammette Questa prima Parte di estate Non sono stati Ottenuti I risultati Sperati Nonostante Il festival Passaggi La Fano Dei Cesari Il Fano Jazz Racconteremo Alla città Quello che intendiamo Realizzare Affinché Fano Possa Crescere E anche Quello che Non potremo Fare Stiamo Lavorando Per mantenere Gli impegni Presi Nei primi 100 giorni Tra cui L'affidamento Dell'incarico Per il piano Urbano Del traffico L'istituzione Dei consigli Dei quartieri L'avvio Della discussione Su come risolvere Il problema Dei parcheggi Nel centro storico Inoltre Una priorità Di Ser Filippi Sarà quella Di convocare Gli stati generali Delle politiche sociali Per iniziare Una vera Coprogrammazione Premio Anada Storti Dall'Associazione Medici Cattolici Riconoscimenti Anca Santini E Carlo Brunori Che si battono Per l'ospice Pediatrico A Fano E poi La proposta Del comitato Ferrovia Di installare L'elettrodotto Di Adriatic Link Al posto Dei binari Della Fano Urbino Il nuovo Elettrodotto Interrato Più economico Meno impattante Sarebbe quello Dell'ex ferrovia Metaurense Quindi Senza Riattivarla In futuro Eviterebbe Non pochi problemi Nell'attraversamento Delle strade E dei terreni Privati Questo appunto Il pensiero Del comitato Ferrovia E chiudiamo Con I bivacchi Notturni E i vandalismi Nell'area Vicina allo Sgambatoio Di via Della Campanella A Marotta I fruitori Della struttura Tuonano Contro i giovani Fuori controllo Che alle prime ore Dell'alba Della domenica Mattina Gettano vetri E bottiglie Al termine Della movida Dopo avere frequentato La discoteca Miu Miu Gli abitanti Di Marotta E Mondolfo Nel fine settimana Portano gli amici A quattro zampe Nello sgambatoio E si trovano Uno spettacolo Poco edificante Che scatena L'ira Degli animalisti Come vedete Bivacchi Vetri Rifiuti Ma anche arredi Danneggiati E ritratti Appunto Nelle fotografie Era questa L'ultima notizia Andiamo allo sport Siamo in clima olimpico Naturalmente Ci sono tanti atleti Marchigiani Impegnati a Parigi In questi giorni Lanconetano Marini Impegnato nel trofeo Individuale di scherma Alice Volpi Che ieri ha mancato Il bronzo È arrivata quarta E poi la ginnastica Con i tantissimi Marchigiani Alla ricerca Di Eno Explore Lo ricordiamo Questo pomeriggio Alle 17 Comincia il concorso A squadre L'Italia È in finale Quindi Tutti Attifare gli azzurri Alle 17.30 Con Lorenzo Casali I fermani Mario Macchini Macchiati Carlo Macchini E Iumin Abbadini Tra l'altro Il direttore tecnico Della federazione Ginnastica E Giuseppe Cocciaro Un altro Marchigiano Doc Residente a Fano Con la sua Alma Juventus La Vis Oggi Contro il Monza Proverà a fare Una bella figura È un bel test Dopo il 4-1 Comunque Che ha fornito Delle Buone indicazioni La squadra di Stellone 4-1 contro il Venezia Altra formazione In Serie A Non dimentichiamolo Oggi Sarà in Lombardia A Monzello Alle 17.30 Presso il centro sportivo Luigi Silvio E Luigi Berlusconi E incontreranno Niente poco di meno Che il Monza Di Alessandro Nesta Un'altra Compagine Che partecipa Al campionato di Serie A Purtroppo Il test match Sarà interdetto Al pubblico Con le porte chiuse In quanto L'incontro si svolgerà In un campo Dove non esiste Una tribuna Sabato Ha rinnovato Il contratto Il direttore sportivo Michele Menga Fino al 2028 Il Venezia Lascia Alfonso Peixoto Ancora In Bianco Rosso Fino Per un altro Anno Quindi il 2003 Per l'esterno Sinistro Portoghese Ancora Al Benelli Vedremo Se stasera Prenderà parte Anche Joe Lobby Alla Amichevole Dopo avere saltato Il test Contro il Venezia La FIGC Rifletta Sul caso Fano Una nota Una presa Di posizione Dei Panthers Fano Sconcertati Dalla notizia Di una possibile Iscrizione All'eccellenza Dell'alma Di Salvatore Guida Concessa In deroca Dalla FIGC A proposito Verrà ufficializzata Domani La fiera Dell'assurdo Parlano I tifosi Stiamo Parlando Di qualcuno Che richiede Di giocare Distante Dalla sua Vera Casa Fuori Provincia Lo sappiamo A Osimo Addirittura A porte Chiuse Quindi Decisione Domani Se ne occupa In prima persona Il presidente Della Ferecalcio Gabriele Gravina Nel frattempo Torna a riunirsi Il consorzio Fano Sport Per procedere Alla costituzione Della nuova società Calcistica Cittadina Alternativa A quella Granata Con 118 Anni Di storia Era questa L'ultima notizia Diamo un'occhiata Anche al nuovo amico Che è stato Presente Nelle nostre Chiese Durante Il fine Settimana Un bell'articolo Sullo sport Alle azzurre Sorde Nate a Pesaro Grazie a Elisabetta Ferri A Beatrice Terenzi Giornaliste E colleghe Tra l'altro Isabetta Ferri Conduttrice Di Insieme a Canestro Qui presso la nostra Emittente Verrà Consegnato Attivo Il premio Paolo VI Il 25 Agosto Quindi Complimenti Un abbraccio Alle nostre due amiche A tutte le ragazze Che hanno portato Il nome E la bandiera italiana Ai vertici Mondiali E poi I cento anni Di Anna Cola Dedicati al sapere Per quanto riguarda Pesaro A Fano Il premio Guzzini Assegnato A William Breveglieri E poi a Urbino La marcia Francescana 2024 Nei territori Della Arcidiocesi Di Urbino Vediamo Il palinsesto Di Rossini TV Per questa Per questa settimana Scusate Si comincia Proprio con Mercatello Sul Metauro Settimana da capitale A tempo di ritmo Alle 8 Poi alle 13 Alle 20 Tutti lunedì Mercoledì E venerdì Nell'ambito Della Natura Della Cultura Magazine Dedicato a Pesaro 2024 Capitale Italiana Della Cultura Questa sera Simona Boarin Intervistata Da Antonio Astuti Medico Chirurgo Specialista In Cardiologia Nell'ambito De Check-up Obiettivo Salute Di Fisioradi Medical Center Ci illustrerà Cardiologia Dello Sport L'informazione Torna questa sera Alle 19.30 In diretta Anche sulla nostra pagina Facebook Con il nostro consueto Rossini News Che potete poi rivedere Alle 20.30 Alle 23.30 E a mezzanotte E a mezzanotte E mezza Siamo in conclusione Non dimenticate di scaricare La nostra applicazione Rossini TV Disponibile sia in ambiente Android Attraverso Google Play Sia in ambiente Apple Scaricandola Dalla Apple Store Sono le 7.57 La chiusura Con il meteo Dedicato alle tre città Pesaro, Fano e Urbino E il solito nostro monito Non cambiate canale Grazie a tutti Buongiorno a questo giorno Che si sveglia oggi con me Buongiorno al latte dal caffè Buongiorno a chi con c'è E al mio amore Buongiorno Per dirne che lei Che per prima al mattino A vedere io vorrei E un giorno nuovo E spero che Sia buona anche per te Per me Buongiorno a chi con c'è E un giorno nuovo